Questa strana alga marina non appartiene al Mediterraneo ma cresce in oceano. Ci troviamo infatti in Portogallo, in pieno oceano atlantico. A differenza dell'Italia ci sono moltissimi pesci, saraghi ma soprattutto migliaia di cefali che nuotano sulla superficie. Eppure i pescatori locani non li mangiano perché questi cefali hanno una carne non particolarmente commestibile a causa di un'alga che mangiano.